Omicidio Civitanova ha convalidato l'arresto di Filippo Ferlazzo Colli al Metaure, terre roveresche, i carabinieri rintracciano tre latitanti Cantiano, Fano e Gubbio, l'incontro per la viabilità di strada flaminia della Contessa Soria, Tombaccia, nuovo quartiere, capoluogo della cultura Palio dei Braceri, la prima volta di Villa Fastigi Buonasera cari amici e amiche di Rossini TV per questa nuova edizione delle Rossini News telegiornale di lunedì 1 di agosto che apriamo andando oltre i confini della provincia di Pesero Urbino per occuparci dello sconcertante omicidio dell'ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorciuku ucciso in strada venerdì a Civitanova Marche Oggi nel carcere anconetano di Montacuto è stato convalidato l'arresto di Filippo Ferlazzo l'operaio di 32 anni responsabile del fatale pestaggio che ha scoinvolto l'Italia intera sia per la crudele brutalità sia per la presenza di testimoni che hanno filmato il tutto senza però intervenire Oggi il GIP di Macerata Claudio Bonifazi ha sentenziato la permanenza in carcere per gli evidenti e gravi indizi di colpevolezza e per il pericolo di reiterazione del reato per un soggetto reputato violento con un disturbo bipolare dell'elevata pericolosità sociale Ora si aspetta l'autopsia sul corpo di Alika ma è evidente che il decesso sia dovuto ai traumi dell'aggressione È stato un weekend di intensi controlli per i carabinieri sul territorio provinciale cominciamo dal comune di Colli al Metauro dove è stato colto in palese violazione degli arresti domiciliari un 57enne sul quale pende una condanna ad un anno e due mesi L'uomo in questione si era reso responsabile di gravi atti persecutori nei confronti della ex compreso quello di averle incendiato la macchina coinvolgendo nelle fiamme altre due automobili A Terre Roveresche invece i militari hanno rintracciato due uomini sui quali pendeva un ordine di carcerazione per furto e detenzione di stupefacente Nello stesso territorio durante un posto di blocco i carabinieri hanno anche sequestrato un'automobile condotta da una donna priva di patente perché mai conseguita È scattata una multa da 5.100 euro Si è svolto oggi invece l'incontro tra Cantiano, Fano e Gubbio per parlare dei problemi legati alla viabilità della strada statale Flaminia e della strada della Contessa Vediamo cosa è emerso Una sintesi tra le finalità della costa e quelle dell'entroterra È stato questo il punto di partenza su cui si è fondato l'incontro avvenuto oggi nella sede del comune di Cantiano e che poi si è esteso sulle problematiche di viabilità di due tratte storiche come la strada statale Flaminia e la strada della Contessa Un dialogo tra gli amministratori dello stesso comune di Cantiano, Fano e Gubbio per discutere sulle prospettive future di queste due arterie di collegamento dell'Italia centrale considerando i risvolti economici e turistici per le regioni Marche e Umbria La problematica della Flaminia e della Contessa non è una problematica nostra non è una problematica del comune di Cantiano o del comune di Gubbio ma è una problematica del centro Italia è un'arteria importante, è una viabilità storica che concilia e mette assieme i due mari quindi l'Adriatico e il terreno Siamo partiti quindi dai problemi attuali, quelli della risoluzione e dell'accelerazione sui cantieri quindi degli attuali cantieri in corso per lanciare invece un progetto di prospettiva che possa portare e cogliere le opportunità del PNR alla pari di tante altre direttrici di traffico quindi la nostra non vuole essere un qualcosa contro qualcuno ma vuole portare alla pari dignità anche questa arteria quindi mettere sul piatto il miglioramento della doppia corsia da Qualagna a Gubbio e la risoluzione definitiva del problema della Contessa quindi oggi è uscito un patto importante tra la costa e l'entroterra che mi auguro sia da incipit per una discussione che porti alla risoluzione attuale e a una prospettiva futura di questa storica arteria Per tempistiche le previsioni quali sono? Nell'immediato io mi auguro che i lavori in corso quindi la chiusura della Contessa che avverrà a ottobre e di pari passo la chiusura dei cantieri sui viadotti di Cantiano possano chiudersi entrambi per la prossima primavera quindi è chiaro ci sono ancora mesi di disagi ma io invito a vedere questi disagi come un qualcosa di momentaneo che invece ci guardano a una prospettiva futura di miglioramento che porterà benefici reali economici alle nostre comunità Purtroppo in questi anni sono state fatte scelte strategiche purtroppo per noi sbagliate con la creazione del nuovo asse viario della quadrilatero che tende a portare persone del centro Italia verso il sud si è totalmente disequilibrato l'economia quindi gli investimenti fatti nelle città hanno perso veramente di forza e per questo che oggi questa bella collaborazione Unione di Intenti con Cantiano e Sugubio nel ritrovare forte la necessità di ricostruire la Contessa di far sì che i lavori contingenti fatti nella Contessa siano lavori rapidi, veloci che considerano la situazione dei collegamenti sociali ed economici dei nostri territori ma poi anche di rivedere strategicamente le scelte considerando questo come un asse viario per la crescita sociale, economica ma anche culturale giornate intense anche per i vigili del fuoco chiamati oggi a diversi interventi partiamo dalla strada panoramica San Bartolo dove un'auto ha preso fuoco a causa di un cortocircuito poi sedato dai pompieri intervento anche a Urbino dove un camion ha perso il carico del rimorchio e per circa 4 ore sono state portate a termine complesse operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della macchina vigili del fuoco che sono anche intervenuti a Cappone di Vallefoglia dove c'è stato un tamponamento fra un camion e un'auto elettrica il cui conducente è stato trasportato al pronto soccorso ed ora entriamo nello specifico per quanto riguarda le notizie riguardanti Pesaro la città ha infatti eletto il suo nuovo quartiere capoluogo della cultura che per un anno accompagnerà le iniziative in vista di Pesaro 2024 vediamo di che quartiere si tratta dopo il successo di Villa Fastigi e recentemente di Catabrighe che hanno svolto entrambi una bellissima programmazione semestrale ora il quartiere 9, Tombaccio, Assoria, Fabreccia ha la possibilità di dimostrare con un programma che è stato selezionato da una giuria molto qualificata le proprie potenzialità con un bonus di programmazione di 15.000 euro che l'amministrazione mette a disposizione per un anno di programma assieme a quello che con le associazioni, con i privati con la partecipazione delle imprese sono riusciti a mettere insieme come compartecipazione di sponsor perché ovviamente era un elemento premiante rispetto agli altri progetti un progetto di cui siamo molto felici perché si centra sulla musica sulla musica legata anche all'accessibilità l'associazione Capofila e Libera Musica che abbiamo conosciuto da tempo non sarà l'unico soggetto il teatro Accademia anche la ginestra del San Bartolo insomma la fondazione Setacea hanno fatto sistema delle migliori realtà che operano all'interno del territorio in tutto il periodo dell'anno e anche altri che magari riusciranno a regregarli quindi complimenti al quartiere visitore complimenti anche a quelli che hanno partecipato senza vincere questa volta perché il bando è molto complicato e selettivo proprio perché vuole essere anche una crescita del sistema culturale della città e sicuramente abbraccerà a parte del percorso di avvicinamento la capitale italiana della cultura quella grande diciamo 2024 avevamo speranze ma non eravamo ovviamente certi di questa vittoria che ci esalta e ci stimola a lavorare e a fare anche qualcosa di più di quello che abbiamo promesso e dal quartiere capoluogo della cultura passiamo al quartiere o per meglio dire la contrada che ieri ha vinto il decimo palio dei Braceri il decimo palio la prima volta di Villa Fastigi il palio dei Braceri della ripartenza dopo due anni di stop in corona la contrada San Pietrana bardando l'ambito ciocco dei colori biancorossi nella consueta domenica di passione di Rocca Costanza i contradaioli di Villa Fastigi vincono nei quattro giri di fossato davanti a Pantano che arriva seconda dopo una strenua battaglia terzo posto per Santa Maria dell'Arzilla che fu la detentrice del palio 2019 quarta Santa Veneranda nell'ultimo posto della finale dopo la scrematura delle batterie che hanno visto 13 contrade partecipanti all'edizione 2022 nella festa di colori che da un decennio contraddistingue il palio Villa Fastigi si gode l'ebbrezza della prima volta una cosa inaspettata una gioia infinita non so esprimermi le parole è bellissimo è fantastico è una favola che si avvera si provavamo ho detto non succede ma se succede diventa tutto così bellissimo la contrada di Tombaccia che ha vinto il palio ben quattro volte in dieci anni facendo indigestione di ciocchi più di ogni altro quartiere questa volta vince in bellezza quella di Mispaglio col concorso promosso da Lorenzo Bernardini e Stylist che ha incoronato Alessia Galeazzi è stata una piacevole sorpresa veramente fiera di essere Mispaglio di Pesaro a chi dedichi questa vittoria? alla mia famiglia soprattutto alla Tombaccia la contrada di quei ragazzi che si allenano tutto l'anno per poter vincere il ciocco sono stati veramente bravi sono fiera di loro vincitore a parte a trionfare è stata tutta una manifestazione ancora una volta colorata e partecipata dopo i tanti dubbi sul farla o meno ripartire dopo il biegno di pandemia ce lo siamo domandato per un po' di tempo perché comunque sia dopo due anni di fermo non era proprio semplice riprendere in mano tutta l'organizzazione ma diciamo che lo spirito la voglia di ripartire la voglia di risentirsi unite delle contrade ha prevalso e per fortuna perché oggi come vedete è una grandissima festa per Pesaro e per i tanti giovani di Pesaro noi ci siamo guardati oggi con i miei collaboratori ci siamo detti ma ragazzi davvero ci sono così tanti giovani alla Rocca perché sinceramente non ce lo aspettavamo e questo cosa vuol dire? vuol dire che il Paglio in questi dieci anni ha coltivato ha seminato bene ha seminato bene ha portato comunque sia in qualche modo dentro il cuore dei giovani dei cittadini la voglia di sentirsi per una giornata uniti nel nome della città ed oggi il risultato è meraviglioso una città in festa soprattutto giovani giovanissimi che dimostrano che il Paglio è la loro festa la festa della città ed è la festa di ragazzi che si ritrovano nei quartieri competono in una gara sportiva molto complessa e tosta ma al tempo stesso colorano e festeggiano la città è un modo per far sentire i ragazzi parte di una comunità e il fatto che ci siano ragazzi sempre più giovani dimostra che questa manifestazione che ha rischiato di morire col covid perché dopo due anni di interruzione si poteva davvero interrompere invece è rinata è ripresa è risorta con tanti giovanissimi adolescenti ed è la dimostrazione che è una manifestazione che avrà un grande futuro ed ora non resta che vedere quelle che succederà nel 2023 eravamo partiti pensando di fare questo decimo palio che fosse diciamo un po' l'ultimo e salutare salutare la città e ringraziare la città ma con questi presupposti sinceramente ci penseremo molto bene perché l'anima è ancora viva e ancora forte non solo palio perché la corsa a Rocca Costanza è stata accompagnata da quattro giorni di festival della pizza Rossini vediamo come è andata la differenza fra il palio dei Braceri 2022 e i nove che l'hanno preceduto è stata senz'altro l'aroma di uovo sodo e maionese che ha ammantato Piazzale Matteotti e Rocca Costanza già perché per quattro giorni il decimo palio dei Braceri è stato abbinato al terzo festival della pizza Rossini centinaia di pesaresi hanno assaporato la più celebre pizza della città altrettanti turisti l'hanno scoperta in una manifestazione che ha sfornato 3000 pizze grazie alle fatiche dello staff del ristorante C'era una volta che ha vinto anche la gara per la miglior pizza Rossini al piatto della città il segreto è avere una famiglia alle spalle meravigliosa che ha fatto un lavoro fantastico una pizza fantastica e mi ha insegnato a me e mio cugino a dare il massimo tutti i giorni soddisfattissimo del premio e la festa sta andando benissimo e ovviamente è difficile perché quando arrivano centinaia e centinaia di persone tutte insieme è impossibile riuscire a dare la pizza in dieci minuti siamo partiti molto bene dieci minuti quindici adesso il tempo purtroppo è salito però comunque la gente sta facendo i complimenti almeno quello purtroppo c'è un po' di tempo da aspettare però la festa in generale è bellissima e soprattutto la Rossini sta andando veramente molto forte il c'era una volta vince per la miglior Rossini da cena la pizzeria Tony vince come miglior pizza al taglio mentre il bar zucchero a velo di Villa Fastigi ha vinto il premio come miglior pizzetta Rossini da colazione e poi ancora Filippo Roberti ha vinto per la miglior pizza Rossini fatta in casa e Luis Poggiali ha vinto il premio divoratore di Rossini con dieci pizzette ingurgitate in dieci minuti insomma un abbinamento al palio da pollice in su quattro giorni ho mangiato la pizza Rossini a colazione a pranzo a cena e sto da dio ciao a tutti e grazie a tutti ancora pizza ancora premi quelli del ristorante pesarese Farina la cui pizza è entrata a far parte della top 50 pizza si tratta della più influente guida del mondo delle pizze ideata e curata da Barbara Guerra Albert Sapere e Luciano Pignataro che periodicamente stila la lista delle migliori pizzerie italiane del mondo Farina è stata inserita come un'unica rappresentante delle pizze della provincia come una delle otto pizze marchigiane presenti in classifica le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla festa che si è tenuta ieri al castello Brancaleoni di Piobbico per i 138 super maturi delle scuole superiori della provincia ovvero i 138 studenti che hanno ottenuto 100 elode in questo esame di stato 2022 ospite d'eccezione il poeta e scrittore Franco Arminio figura di rilievo del panorama culturale nazionale che ha accompagnato la cerimonia organizzata dalla provincia alla presenza dei dirigenti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale Ugo Filisetti e Alessandra Belloni dal 3 agosto il Pala di Campanaro ospiterà il torneo ETC ovvero la più grande competizione al mondo relativa ai War Games da tavolo sono previsti oltre 500 giocatori e 30 nazioni rappresentate per un totale di oltre 1000 persone che raggiungeranno Pesaro da tutto il mondo in un torneo che durerà fino al 7 di agosto Ad Urbagna nasce Casteldurante Viaggi e Turismo una nuova agenzia per ogni genere di servizio al turismo con consulenti specializzati e di lunga esperienza La nuova agenzia avrà sede ad Urbagna in via Roma 20 L'inaugurazione invece sarà giovedì 4 agosto alle ore 18 Le immagini che vi mostriamo ora invece fanno riferimento ai tre giorni di concerti che hanno caratterizzato il weekend di Gabice Mare sede di una delle sei tappe dell'RDS Summer Festival Il meteo incerto di venerdì non ha fermato i fan di un trascinante Rocko Ant che assieme a Raf ha caratterizzato l'apertura della tre giorni in musica Un festival continuato il sabato con Gazzelle per poi concludersi domenica con l'intensa interpretazione di Madame e anche con il travolgente ritmo di Matteo Lotti Un successo per il comune di Gabice Mare che manda in archivio una tre giorni di grande richiamo di visitatori e turisti sul territorio Concludiamo con una notizia di sport e in particolare di ciclismo Una tradizione dentro la tradizione Questa domenica la 76esima Sagra delle Pesche di Montelabate ha ospitato al suo interno anche la 19esima edizione della Corsa delle Pesche Un appuntamento ciclistico giovanile ormai divenuto consolidato che ha visto in gara oltre 100 ragazzi sui pedali per le strade territoriali del comune Fra i ciclisti del primo anno ha vinto la Corsa Tommaso Cingolani in un podio completato da Andrea Lessiani e Edoardo Fiorini Fra i ragazzi del secondo anno vittoria di Giulio Biancalana davanti a Federico Rotini e Stefano Cavalli hanno corso i ragazzi esordienti primo e secondo anno i ragazzi che vanno dai 13 ai 14 anni ci sono stati 129 iscritti e 100 partenti è stato tutto molto emozionante e tantissima gente ha partecipato alla visione di questa bellissima corsa di questi ragazzi da ammirare perché con questo caldo è stata veramente dura oggi fare questa gara i ragazzi delle biciclette sono partiti dal comune di Montelabate per poi proseguire lungo tutto il paese arrivare fino alla Psella sempre nel comune di Montelabate poi sono scesi lungo la Montelabatese l'hanno percorsa fino di nuovo a tornare all'interno di Montelabate e hanno fatto 6 e 8 giri e con le notizie di sport si conclude qui questa nuova edizione del Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata perché questa sera alle ore 21.20 andrà in onda la replica della seconda stagione di Master Fish e poi vi ricordo l'appuntamento anche per domani mattina con Buongiorno Rossini alle ore 7.20 in diretta come ogni lunedì fino al sabato con la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino e con questo è veramente tutto grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata